Buono quel caffè! Contrino del cavolo! Ancora, quanti ce n'ho?! Mamma mia, ma c'ho più scontrini che altro! Ancora! Mamma mia, una vera allergia! Allora, vediamo un po' questi risultati! Un po' il Quidditch, com'è andato? Certo che il Quidditch quest'anno è da quando sono andato Gloom! Eppure le squadre che lo scommiamo! Roba inutile! St'allergia mi sta consumando, non ce la faccio più! Da quando finisce l'impollinazione! Ma guarda che razza di gente incivile! C'è una discarica in terra! Ma che schifo! Ma non lo so! Con i soldi delle mie tasse! Va, 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 va! E benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, uno degli orsici B, e questo è il furgone profumo. No, scherzi a parte! Comunque un mi piace a chi si ricorda quel cartone animato, io sono Grizzly, questo è il diario di viaggio on the road, anche se virtualmente sono un orso CB, ma questa è un'altra storia, di cui parleremo un'altra volta. Oggi voglio parlarvi di rifiuti, di spargere rifiuti in giro di questa inciviltà diffusa. Allora, una veloce parentesi. Ne ho parlato nel vlog in cui ho parlato dei fumatori, vlog che vi lascerò linkato sul doobly-doo e sulla scheda, peraltro. Quando fumavo avevo l'abitudine di portare il posacenere tascabile sia in spiagge sia nei posti dove era difficile trovare un posacenere se dovevo andare a passeggio, perché volevo evitare di seminare i miei mozziconi in giro. Soprattutto avevo un'altra abitudine che, devo dire, per esperienza non è molto diffusa tra i fumatori. Quando compravo un pacchetto di sigarette nuovo, il cellophane e la stagnola che li sigillavano me li ficcavo in tasca. E credetemi, non è molto diffusa, perché lo scorto più diffuso è proprio di uscire dalla tabaccheria via il cellophane e si butta, via la stagnola e si butta. C'è qualcuno che aveva la bontà d'animo di almeno usare il cestino della carta-straccia che ci stava in tabaccheria, o qualche cassonetto dei rifiuti, ma buona parte delle persone già partiva da questo presupposto. Poi sul lanciare mozziconi dovunque mi ricordo un servizio delle Iene di molto tempo fa credo parlassero dell'Erasmus, degli scambi culturali universitari, comunque di questa situazione in Europa e in extra-Europa, i ragazzi erano se non ricordo male in Repubblica Ceca, stanno andando a prendere la metropolitana. A un certo punto c'è questa scena, classiche immagini rubate con la telecamera in mano, si vedono delle persone, le scale dell'ingresso della metropolitana e una persona in uniforme. La Iena coinvolta racconta «Stiamo andando a prendere la metropolitana, sto fumando una sigaretta da bravo italiano, prima di entrare alla stazione metropolitana, ho buttato la sigaretta in terra». Un agente di polizia mi ha visto, ritorna l'inquadratura con la Iena nello studio con un foglio di carta in mano e mi ha fatto 36€ di multa, e ha fatto bene perché me la sono meritata. E il punto, secondo me, un po' è questo, perché qui in Italia, fatta la parentesi che sto girando lungo una strada relativamente di campagna, sono nella periferia estrema di Siracusa e sono cartacce in giro anche lungo questa strada, virtualmente quello che manca è un po' di senso civico. E quello che potrebbe aiutare un po' di senso civico sicuramente sono anche le sanzioni, perché è facile spargere cartacce in giro e poi dire «Ma guarda che in civiltà, poi con le tasse che paghiamo qua non pulisce nessuno». Già quando ero più piccolo, quando andavamo al mare in estate, c'erano quelle giornate in cui venivano delle associazioni di volontari che pulivano le spiagge, con tutti i bagnanti, li si presentavano alle nove e mezzo del mattino, alle dieci del mattino con la spiaggia piena di bagnanti, e cominciavano a raccogliere mozziconi di sigarette, cartacce, ogni genere di cosa, ogni tipo di spazzatura, tutte le cartacce sparse in giro, etc., etc., dopo che passavano in una spiaggia piccolina, tirando fuori due-tre sacconi di mondezza di quelli proprio condominiali, ringraziavano tutti gli applausi per aver pulito la spiaggia, se ne andavano via, nel giro di cinque minuti quella spiaggia era ridotta peggio di com'era prima che venissero i volontari. Per molti il concetto di inciviltà è dato dalle grandi cartacce, dalla grande spazzatura, però poi a mettersi, non lo so, le cartine delle sigarette, a mettersi la carta delle caramelle in tasca, a non sputare per strada le gomme da masticare? È difficile pensarci, vero? Ci sono centinaia di deficienti che devono sputare dieci centesimi di gomma da masticare in terra e fare una ripavimentazione, invece dell'asfalto c'è gomma da masticare per terra. Tante piccole cose, e come si dice il chicco di riso poi diventa un risotto a forza di un chicco di riso alla volta. Sono queste piccole cose, quelle dalle quali secondo me si sbaglia profondamente. Come ripeto, è facile indicare con il dito e dire «Ma insomma, io pago tutte queste tasse, guarda le strade, e qui non pulisce nessuno». È difficile iniziare ad essere i primi a dire «io questa carta non la butto per terra» ma non «la butto per terra perché rischio che mi facciano una multa e sarebbe bello che mi facciano una multa e mi taglino le mani» l'idea dovrebbe essere «Questa carta non la butto per terra perché è sporca». È inutile stare a guardare, è pieno di cartacce e dice «cosa vuoi che faccia la mia cartina della caramella in più o in meno». Ho fatto le scuole medie molto tempo fa, veramente molto tempo fa, praticamente trent'anni fa, e alle scuole medie abbiamo studiato una materia che è l'educazione civica, abbiamo studiato la Costituzione italiana, abbiamo studiato tutta una serie di cose che concernono, appunto, l'educazione civica, il concetto di vivere in una città, in una comunità di persone. E secondo me questa cosa, innanzi tutto, manca tantissimo nelle scuole, dovrebbe essere una materia letteralmente d'esame, cioè dovrebbe essere una materia il cui voto, come la condotta, deve precludere anche all'avanzamento scolastico. Bisogna avere rispetto della comunità, non intesa come rispetto solamente delle persone che ci sono nella comunità, ma anche dell'entità fisica della propria città. Qui a Siracusa, in una zona centrale, c'è un parco gioco, con le altalene, gli scivoli e tutte queste belle cose. È stata messa una particolare altalena in cui possono salire i bambini che sono in carrozzina, è una altalena in cui si va con tutta la carrozzina, viene bloccata la carrozzina e possono giocare assieme agli altri. Che una bella cosa, naturalmente, non fosse che questa altalena è stata oggetto di atti vandalici più volte. Ed è una cosa che mi fa cascare le braccia, perché stai danneggiando una cosa della comunità, cioè una cosa che abbiamo pagato con le nostre tasse, stai danneggiando un gioco per i bambini, che per di più è per i bambini disabili? Cioè bisogna proprio essere veramente infami! Ma non una volta, più volte! E più volte! Chapeau al comune di Siracusa che si è tirato su le maniche e l'ha riparata! È questo quello che manca, è il senso civico. Fermate degli autobus con i vetri trotti, con scritte di pennarello dappertutto. Ma ti senti realizzato dopo che hai scritto col pennarello indelebile «amore, non ti sopporto»? Ma mandaglielo un sms, scriviglielo su Whatsapp. La settimana scorsa, mentre ritornavo in ufficio dopo essere stato da un cliente, ero in macchina, un paio di macchine davanti a me c'era questa famigliola, vedevo che dietro c'erano dei bambini che giocavano, che si agitavano un pochino. Si apre un finestrino posteriore, questi bambini buttano fuori due sacchetti di patatine, prima uno e poi l'altro, e richiudono il finestrino. E i genitori che erano in macchina, che stavano guidando, tranquilli, hanno continuato. Sono rimasto veramente interdetto, cioè... guardate il senso civico. Ecco la dimostrazione del senso civico. Cioè non è che io fermo la macchina, prendo i due sacchetti che i miei figli hanno tirato fuori, glieli faccio mangiare. Questo è il senso civico che vedo nella mia città oggi. Bene ragazzi, io ho concluso questo sfogo, perché più che altro è questo, quindi vi chiedo un po' com'è la situazione nella vostra città? Nella vostra città è piena di cartacce, c'è un po' più di senso civico? Avete dei figli? Avete insegnato il senso civico? Pensate che sia un messaggio importante? Voi avete studiato educazione civica a scuola? Avete un'idea di questo concetto? Siete d'accordo con me, oppure no? Oppure pensate che se c'è già una montagna di spazzatura non è la cartina della vostra caramella che farà la differenza? Deve essere il comune a pulire le strade, perché pagate le tasse? Non lo so, fatemelo sapere con un commento qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Detto questo, se sono riuscito a smuovere un po' la vostra coscienza, se sono riuscito a inculcarvi un pochino di senso civico con questo sfogo, se siete d'accordo con me che ci vuole un po' più di senso civico, soprattutto se siete come me e siete stati con la categoria di fumatore che poi arrivava a casa, si svuotava le tasche erano ripiene di cartine di caramelle, di cartine dei pacchetti delle sigarette. Fate pollice in alto e condividete questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o su Telegram. E ricordate di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e vi farà assumere subito quel buon profumo di nuovo iscritto, che non è come il profumo delle strade piene di cartacce, tutto il contrario, no. Inoltre vi ricordo che se vi iscrivete anche al mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo, sull'annotazione e sulla scheda, sarete anche in grado di ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. E detto questo, come sempre, grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima! Dimenticavo, nonostante le accuse di inciviltà, dentro il mio ufficio ripulisco, quindi... questa è tutta roba che va nella spazzatura, tranne questo che va a finire nella carta. Ci vediamo alla prossima! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!